Non si è condizionato quello che la Lega Nord esprime oggi al Senato sul rifinanziamento delle missioni militari all'estero. La condizione è che ci sia fin da subito una significativa e progressiva riduzione delle missioni e dei mezzi militari utilizzati nelle varie parti del mondo. Hanno recepito perché al 31 dicembre verranno tolti dalle missioni 2.000 uomini, si andrà verso anche una specificità di economia che sarà nell'ordine dei 150 milioni di euro. E poi perché noi riteniamo che ci vogliono un ex strategi, purtroppo quello che è accaduto anche in questi giorni, con susseguirsi una settimana dall'altra delle due morti sopraggiunte, si capisce che probabilmente il teatro afgano non comporta solo un problema di terrorismo che era quello di Bin Laden, ma anche forse un problema di mala gestione da parte di chi sta cercando di governare un paese disastrato come l'Afghanistan. Noi dobbiamo essere sicuri di non restare col cerino in mano perché vedo che Obama ha fatto una scelta di ex strategi e la Francia lo stesso, non vorremmo essere gli ultimi che viene via da un teatro di crisi come quello, pagandone un prezzo che già altamente abbiamo pagato fino ad oggi. E tra le missioni militari che la Lega Noro si batterà finché vengano terminate il prima possibile, c'è quella in Libano che costa ogni giorno 600.000 euro. Sì, noi già dall'inizio del 2008 abbiamo posto un po' di resistenza sul fatto della missione Unifil 2, anche perché all'inizio non capivamo il fatto che non si è voluto disarmare a suo tempo l'Ezbollah e addirittura ce l'abbiamo come componente ultimamente di governo con un partito armato. Credo che non sia una cosa molto lucida da spiegare ai cittadini italiani.